La dermatite atopica è una patologia che colpisce prevalentemente l'infanzia. Tuttavia, negli anni più recenti è stato visto che un gran numero di soggetti con dermatite atopica presenta questa malattia anche da adulto. E soprattutto nei casi che colpiscono i soggetti adulti, questa malattia comporta gravi disagi per il paziente. Soprattutto i problemi sono collegati al fatto che si tratta di una malattia intensamente pruriginosa che in alcuni casi si può presentare con forme diffuse. E questo crea uno stato di frustrazione per il paziente che è costretto anche in alcuni casi a diminuire la possibilità di attività lavorativa. Ed esistono anche delle professioni che il paziente con dermatite atopica, in particolare quando la patologia colpisce le mani, non può effettuare. Per molti anni la patologia è stata trattata con creme, con sostanze emollienti perché uno dei problemi principali di questa patologia è la sacchezza cutanea. E con corticosteroidi topici che tuttavia sono farmaci che non possono essere utilizzati per lunghi periodi per via dei loro effetti collaterali, il principale dei quali è l'assottigliamento della pelle. Per quanto riguarda le terapie sistemiche, queste non sono molto efficaci. Si possono dare per periodi limitati di tempo, ma sicuramente non sono in grado di contrastare i problemi di questi pazienti. Tuttavia sono state effettuate sperimentazioni con nuovi farmaci che sicuramente modificheranno lo scenario e le possibilità terapeutiche di questi pazienti.